Mi ero fermato Mario alla domanda di Filippo che ho sentito la Serie A e poi dopo mi sono perso. Sì, sì, ti stavo chiedendo, visto che fai la seconda voce all'estero per la Serie A, il campionato di Serie A all'estero dove tu fai la seconda voce, com'è considerato? Cioè che cosa vedono di noi? Come ci considerano? Perché noi, ad esempio, noi quando guardiamo la Premier o guardiamo la Liga con Real Barcellona, la guardiamo un attimino un po' con NVIDIA. Loro la Serie A com'è che la considerano e la vivono? Sì. Ma è ancora, per quanto riguarda la parte tattica e quindi la parte tattica degli allenatori, un punto di riferimento, perché effettivamente le nostre partite delle volte, diciamo così, non scorrono via bene perché c'è eccesso di tatticismo, quindi vengono...